Spesso mi chiedete se i consigli che do, le mie opinioni, sono universalmente valide. Fra l'altro scrivetemi le vostre opinioni qui sotto, così creiamo una bella community, facciamo un bello scambio. No, ovviamente non sono universalmente valide. Prima di tutto perché sono le mie personali opinioni, il mio modo di relazionarmi con gli altri. In secondo luogo perché sono dei modi di comportarsi che vanno bene qui, in questo luogo, in Italia. Questo va tenuto in grande considerazione. L'Italia è un paese fortemente patriarcale e maschilista, quindi noi abbiamo un determinato tipo di comportamenti che vediamo del tutto naturali. Ad esempio, un esempio molto semplice, il fatto che a cena un uomo offra alla donna. Ma per noi è del tutto naturale. Se voi fate la stessa cosa in Nord Europa è ritenuto addirittura offensivo. E allora l'intelligenza non è nell'avere un modo strutturato di comportarsi e utilizzare sempre quello in maniera marmorea. Ma l'intelligenza sociale consiste nel capire che ogni comportamento non è altro che appunto un costrutto sociale. E quindi sapersi adattare alle diverse situazioni. Fondamentalmente quello che dobbiamo dimostrare all'altro, una delle abilità che dobbiamo dimostrare, è proprio quello di saper stare bene in società, saperci relazionare agli altri e saper intessere una rete di relazioni sociali. Questo è fondamentale sia nell'arte dell'attrazione sia in generale nelle relazioni con gli altri. Grazie a tutti.